Ciao a tutti, mi chiamo Stefano ed in questo video vi volevo parlare qualcosa che so e del dialetto o della lingua che parla che si chiama abruzzese. Io parlo italiano, tutti i giorni praticamente, ma alla casa mia, quando ero piccirino, la famiglia mia parla quasi sempre in dialetto, quasi sempre. Alla scuola ho imparato l'italiano, però non, mi ricordo che non parla sempre in dialetto, mamma parla in dialetto, così così, e padre parla in dialetto quasi sempre, pure esso. L'abruzzese però è una lingua che è morta, perché è una persona di gente non parla più, non parla più perché quando tu parla in dialetto in Italia, la gente pensa che sia una persona vulgare. Non è vera, però questa è la percezione che la gente ha. L'abruzzese non è una lingua che tu puoi andare a scuola, quindi, per esempio, io ne le posso scrivere, le parla soltanto perché le parlevo quando ero piccirino e non. E quindi, pure per questo motivo, sono deciso di fare questo video. Volevo dire che l'abruzzese si chiama il dialetto abruzzese un dialetto, appunto, ma linguisticamente parlando si deve parlare più di una lingua, perché l'abruzzese si è evoluta diversamente dall'italiano e perché c'è una struttura grammaticale che è un conto differente, c'è una presa di parole che è diversa e quindi si sa parlare più di una lingua. Però, l'unico Stato le chiama il dialetto e non le chiamiamo il dialetto. Quando stiamo in Italia, l'amico a me parla sempre l'italiano, non le parla il dialetto. Eppure per questo motivo, il dialetto che parla io non è buono. Se sentete parlare, non quando parla il dialetto, potete capire le differenze. Io quando parlo il dialetto devo sempre pensare. Devo sempre pensare perché la presa di parole mi viene in italiano o perché ora vivo in Olanda, in inglese. Quindi, sto veramente, veramente confuso. Però, sto contento che posso parlare con il dialetto. So veramente contento di queste cose. La presa di Amici a Mila, il dialetto, per esempio, non ne parla per niente perché alla casa, alla casa, ne dove parla. Però, alla casa a me, sta sempre parlato. Quindi, le posso parlare con il dialetto. Frate me lo parla di più, perché frate me vive ancora a Crecchi e perché in inglese, si, qualche volta si parla, parla in dialetto. Penso che sia abbastanza per le sue video. Spero che vi sia piaciuto. Se volessete sapere che cosa di più sull'Abruzzo, potete trovare una presa e una presa di informazioni su internet. L'Abruzzo è veramente una bella regione. Ci sta di tutto e di più. Ci mani buoni. Ci sta la montagna, ci sta il mare, ci sta le colline, l'uvinio è buoni. Quindi, io vi invito a dirci per vedere se si vive in Abruzzo. E la cosa buona dell'Abruzzo è che ci sono una presa di turisti. Quindi, è ancora vera. È una regione che può ancora vedere la naturalezza della gente. È difficile da spiegare, però se ci siete, lo capite. Quindi, spero che la video vi sia piaciuta. Grazie mille. Ciao!